Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Ricadi in provincia di Vibbo, in mia compagnia abbiamo la sindaca del comune di Ricadi, Giulia Russo, alla mia sinistra abbiamo invece il vice sindaco che è Patrizio Cuppari, che l'accento è sempre qualcosa di particolare, insieme all'amministrazione comunale che è qui intorno a noi e a cui chiederemo poi alcune informazioni. E poi ovviamente Alessia Bausone di Pride Online, alla quale anzi passo subito la parola e vediamo un po' cosa dirà la sindaca. Allora io ringrazio innanzitutto Riccardo, ringrazio le associazioni LGBT molto presenti a Catanzaro come capoluogo di regione ma presenti in tutta la regione. Oggi abbiamo con noi AVEN, abbiamo con noi il comitato diversi uguali e abbiamo soprattutto con noi l'associazione Radicale Certi Diritti, che dall'inizio ha seguito questa nosa questione che è andata su tutti i quotidiani nazionali, di questa casa vacanze che non accetta gay animali, però il comune ha dimostrato in maniera celere, in maniera molto fattiva, invece di essere un comune molto inclusivo, molto plurale, molto arcobaleno. Di fatti è stata celebrata in questo comune un'unione civile soltanto il mese scorso. Quindi io volevo chiedere alla sindaca che cosa pensa di questo episodio e che iniziative intende eventualmente prendere per dare un segnale forte ai suoi cittadini. Allora, già ho avuto modo di esprimere la mia opinione su questo, diciamo, episodio che noi condanniamo totalmente perché appunto non rappresenta e non rispecchia quello che è il pensiero non solo della nostra amministrazione ma di tutti i cittadini di Ricadi. Come già stato detto, noi siamo stati uno dei primi comuni tutta la Calabria a celebrare un'unione civile fra persone dello stesso sesso e uno dei primi atti che il Consiglio Comunale ha approvato è stato proprio il regolamento sulle unioni civili. Quindi è una, già, credo che sia un segnale importante, qualunque genere di discriminazione va combattuta e ritengo che in questo caso non ci siano commenti, diciamo, ulteriori da fare se non quello che già abbiamo detto. Senta, volevo chiederle, dai siti internet risulta che la casa vacanza è chiusa. Le risulta? Guardi, a me non risulta perché questa non è un'attività commerciale, nel senso che il titolare ha questo appartamento privato all'interno della propria villetta e quindi non ha la necessità di avere una licenza commerciale e ha effettuato il lunedì scorso, quindi dopo che si è verificato questo episodio, la registrazione e la comunicazione è obbligatoria per il pagamento della tassa di soggiorno e quindi la conseguente comunicazione alla questura per dare atto delle presenze che c'erano. Se è chiusa a me non risulta. In quel giorno hanno dato comunicazione della presenza di una famiglia in quella abitazione, quindi questo è quello che so. Perfetto. Massimo Arcangeli, che è la vittima di questa triste faccenda, ha proposto di organizzare a Ricadi a settembre una grande manifestazione come momento di confronto, di riflessione sul tema LGBT, di inclusione sociale e quant'altro con la presidenza della Camera, con le istituzioni calabresi politiche e anche con le associazioni per dire no, un no calabrese all'omofobia. Come interpreta questa iniziativa? Ci siamo sentiti questa mattina con Arcangeli, sì con Massimo Arcangeli, mi ha mandato un comunicato stampa approvo al 100% questa manifestazione, so che lui si è anche sentito con degli operatori e delle strutture turistiche del territorio, in particolare l'hotel La Bussola, che si resta subito disponibile, anzi ad offrire anche un soggiorno a questi ragazzi e quindi insieme si organizzerà questo evento. Non so ancora i termini di come si svilupperà, si sta organizzando, ma credo che sia importante dare risalto a tutta la vicenda perché si capisca insomma che i calabresi non sono così come sono apparsi in questo episodio. La ringrazio. Un'ultima domanda un po' più realpolitik, lei è molto vicina al Partito Democratico e Michele Mirabello è intervenuto dando la solidarietà, dando la vicinanza comunque all'episodio e tutto il resto, proponendo di fare il prossimo Gay Pride a Capo Vaticano. La mia proposta, quale anch'io esponente vicino al Partito Democratico, è stata invece quella di farla nel capoluogo di Regione, in modo che rifletta veramente tutta la Calabria. Lei come è orientata? Dove lo farebbe il prossimo Pride? Concordo sulla sua idea di farla presso il capoluogo di Regione, proprio perché deve essere una cosa a livello regionale, so che anche il Presidente della Regione ha espresso sui social il proprio disappunto diciamo su questa vicenda, quindi l'anno scorso si è tenuto a tropea, quindi rifarlo qui forse non avrebbe senso e è più giusto farlo a Catanzaro. La ringrazio, le passo Riccardo Cristiano di Liberi.tv. Grazie. Io ringrazio Alessia Bausone e soprattutto alla Sindaca Giulia Russo. A questo punto vorrei fare una domanda invece al Vice Sindaco, che abbiamo prima chiamato all'ordine. Secondo lei, in questa città che è Ricadi, Santa Domenica di Ricadi, avendo sentito, penso, tutte le voci dell'amministrazione comunale, pensa che ci sia la necessità di abbattere le barriere della discriminazione a tutto tondo? Mi spiego meglio. In questo caso il cartello era rivolto ai gay e agli animali, però ci sono anche altre persone a quale poteva essere rivolto il cartello, pensiamo anche agli anziani, ai disabili. L'abbattimento delle barriere architettoniche per i disabili è un'altra piaga italiana. Come comune avete intenzione di rivolgervi proprio al totale abbattimento delle barriere in generale, degli stereotipi? Sì, innanzitutto volevo dire che questo mi creda è un episodio assolutamente isolato. Noi qua siamo gente ospitali, non facciamo differenze con nessuno, anche perché le differenze non ci sono. Non ci ho mai posti problemi di questo tipo, proprio perché sentivo dire prima della manifestazione. È importante che si faccia, però mi creda è un episodio assolutamente isolato. Qui la gente è ospitale con tutti e non si è mai posto il problema e ribadisco il concetto, il problema non c'è perché siamo tutti uguali. Per quanto riguarda le barriere, non credo che qui ce ne siano più che in altri posti, voglio dire. Ci sono purtroppo delle persone che hanno un modo di pensare un po' chiuso forse, però non credo che Ricadi sia un posto dove ci siano molte barriere da abbattere, più che in un altro posto, voglio dire. Cioè è chiaro che bisogna lavorare molto, anche per convincere chi magari ha un'idea diversa dalla nostra, dalla maggioranza della popolazione, però non credo che sia un percorso molto duro, anche perché sono veramente casi isolati. Anche perché dai commenti che sono stati soprattutto sui social network emergeva che cosa? Alle volte la non comprensione dell'attività in sé, in quanto non è emerso che era una struttura privata adibita a uso ricettivo pubblico, quindi molti commenti erano del genere ah ma a casa mia faccio quello che voglio. Non è il caso di Ricadi perché abbiamo saggiato proprio sul territorio la differenza di opinioni, ovvero il caso isolato della struttura ricettiva casa privata Ciufo è stato proprio il caso isolato, perché le strutture che abbiamo intervistato, i cittadini di Ricadi e di Santa Domenica si sono dichiarati apertissimi e anzi addirittura meravigliati di un caso del genere. Però questo caso ha portato a un eco mediatico assurdo, potrei dire io, dove però persone hanno detto ah ma a casa mia faccio quello che voglio, travisando forse anche le parole insomma della popolazione. E noi abbiamo voluto essere qui oggi per rimarcare questo, che un caso isolato è scappiato qui in Calabria, ne è scappiato uno oggi nel Salento, infatti Alessia Bausone lo ha denunciato proprio su Pride Online, però è giusto fare politiche di inclusione, le associazioni come anche le amministrazioni comunali dovrebbero fare questo, infatti è stato utilissimo l'intervento della sindaca in favore insomma del comune delle non discriminazioni. Volevo intervistare qualche altro consigliere, a questo punto approfitto della signora, facciamo anche per far condicio se no intervisto solo gli uomini, lei come donna, adesso le faccio una domanda molto semplice, lei vede discriminazioni sul luogo di lavoro? Questa potrebbe anche essere riscontrata come una discriminazione? Mettiamo caso, mettano un cartello un domani, vietato la cesta alle donne, lei come la vedrebbe? Come una discriminazione? O come magari una scelta? Io sinceramente lavoro in un ente pubblico, però questa grande discriminazione non l'avverto, non la sento, si sente parlare sempre di discriminazione a livello anche economico, sulle donne, sul lavoro che fanno le donne, ma io questa discriminazione non la sento, sinceramente. Per quanto riguarda invece questo problema che c'è stato, la cosa mi ha meravigliato perché noi non siamo gente che pensa a questo. Questi ragazzi fra l'altro sono già venuti qui nel nostro comune diverse volte, così come lo hanno detto loro, sono venuti diverse volte e non hanno mai incontrato nessuna forma di discriminazione. Questo è stato, come diceva il vice sindaco, un caso veramente isolato e noi abbiamo preso, non le parti, abbiamo detto quello che è il nostro pensiero su questa situazione e penso non ci sia nulla da aggiungere perché hanno già detto loro quello che è il nostro pensiero. Perfetto. A questo punto io ringrazio e vediamo un po' di intervistare anche qualcun altro, anzi, perfetto. Adesso mi sposto, mi sposto, assessore alle politiche sociali, lei invece cosa pensa della situazione del caso che si è creato? Ma io penso che c'è tanta paura quando una cosa non è nota, non è conosciuta, quando si ignora e quindi fa paura e vengono queste manifestazioni che portano qui gente di ogni colore, gente di di ogni razza, di ogni religione. Vanno fatte queste cose per valorizzare e anche per far capire che è una cosa che può starci dovunque, nelle proprie case, tra i propri figli, tra i propri amici. È anche un fenomeno, come si può dire, è una parte della nostra società che è dentro di noi e quindi assolutamente va rispettata. Posso andare avanti e fare qualche domanda anche all'altro consigliere comunale, giusto? Assessore, assessore. Le cosa pensa di questa situazione che si è creata qui a Ricadi, che è isolata comunque? Guardi, appena l'abbiamo saputo siamo rimasti un po' tutti quanti allibiti, anche perché questo signore non è nemmeno residente qui a Ricadi, quindi si figuri cosa... e abbiamo subito immediatamente condannato nella prima fase di condanna più assoluta verso questo signore. E poi il sindaco in prima persona e tutta l'amministrazione ci siamo mossi per fare i dovuti controlli di tutti i generi verso questa casa vacanze, cosiddetto ciuffo. Anche perché poi il territorio, abbiamo visto che c'erano altre strutture ricettive, giustamente su internet si diceva casa vacanze ciuffo, c'era che poi una contrada, se non ho capito male, una via, molti invece hanno avuto timore che anche loro potessero essere tacciati di non essere accoglienti e invece è stato tutto il contrario. Le persone hanno voluto rimarcare il fatto che Ricadi è accogliente. Senza dubbio, Ricadi è un paese molto, molto accogliente. Ne testimoniano anche che hanno mandato una lettera, vero sindaco, i due ragazzi hanno mandato una lettera molto, ma molto toccante che è veramente molto bella, che noi volevamo, il sindaco aveva chiesto di pubblicarla, loro dicevano meglio di no, ma è molto toccante, ci ha fatto di molta sensibilità. Benissimo. L'altro assessore posso, ok, assessore ha? La cultura, l'istruzione e anche il capogruppo della maggioranza. È chiaro che è stato un caso isolato, però è comunque il segno che ancora bisogna fare tanto per combattere la paura del diverso. La diversità non deve essere intesa come impoverimento, la diversità arricchisce sotto tutti gli aspetti. Questo è il mio pensiero. Ovviamente poi condanno tutto quello che è successo. da parte mia, come capogruppo, la vicinanza e la solidarietà per le persone che hanno subito questo atto veramente vergognoso. Perfetto, io la ringrazio. Passo un attimo adesso a un'associazione che è stata presente qui oggi che è di Versi Uguali con Salvatore Belfiore, che sicuramente vorrà darci un suo contributo. Sì, io volevo farvi questa proposta, visto che siamo qui, è un'occasione molto ghiotta e molto interessante. Io riprendo un po' le parole della signora presente al Pride di Cosenza che pure ha fatto un po' il giro d'Italia, una persona di 80 anni presente al Pride di Cosenza che ha scritto, per colpa degli ignoranti, io sento il dovere di manifestare in questa giornata. Quindi io vi chiedo, visto che siete proprio tutti qui, credo che sarebbe anche bello come proprio manifestazione concreta di questa giornata e anche di quelle che verranno se magari fosse possibile fare il cartello proprio Ricadi con il colore arcobaleno con scritto è una città che accoglie tutti. E quindi credo che sarebbe anche per voi, per la vostra immagine, anche per l'immagine degli albergatori un gesto concreto che sancisca che effettivamente l'episodio di Ciufo è stato un episodio isolato. A questo punto facciamo parlare al microfono, l'assessore. L'associazione Punta Capo ha già fatto un video del genere, mi pare, proponendo appunto il cuore con i colori dell'arcobaleno e la foto della scogliera di Capo Vaticano. Quindi è andata subito online questa immagine. Molto spesso a livello comunicativo bisogna sancire e ribadire delle cose. Noi sappiamo tra di noi che ovviamente bisogna condannare l'omofobia, bisogna condannare, è ovvio, cioè è la base quotidiana. Però purtroppo molto spesso certe cose bisogna ribadirle ed è anche un bel messaggio. Per esempio nella mia provincia c'è un posto, Sant'Andrea, che appunto nel suo cartello d'ingresso è scritto Sant'Andrea, Arcobaleno, perché sono degli atti anche concreti che fanno sì che un certo tipo di territori effettivamente sanciscano che è da condannare l'omofobia. Non è da condannare. Ok? Questo è il mio contributo. Grazie. Perfetto, adesso diamo invece la parola a Marco Amendola, che è un'altra associazione presente a Aven in questo momento. Allora, praticamente la mia proposta, visto che l'amministrazione comunale di Ricadi si è dimostrata così disponibile, così presente verso questo problema, cioè aderire alla rete Redi. La rete Redi è la rete degli enti locali contro le discriminazioni sessuali, di orientamento sessuali e di identità di genere. Quindi se l'amministrazione vuole fare questo passo ulteriore per dimostrare apertura e accoglienza. a questo punto passo invece la parola a Marco Marchese, invertiamo i ruoli, io gli do il microfono e mi prendo la telecamera, dell'Associazione Radicale ai Certi Diritti, eccoci qua, facciamo il cambio. Vai, così. Bene, mi associo anch'io come Associazione Radicale ai Certi Diritti alla richiesta che rivolgiamo all'amministrazione comunale di adesione alla rete Redi. La rete Redi è una rete di enti pubblici, comuni, province, regioni, consiglieri di parità che una diecina di anni fa si sono insediati presso il Comune di Torino e i comuni, gli enti pubblici che aderiscono a questa rete si impegnano a rispettare un protocollo d'intesa, quindi un protocollo di promozione di politiche antidiscriminatorie sul territorio ricco di iniziative dove appunto l'amministrazione si impegna ad attuare queste politiche a livello locale. In Calabria ci sono diversi comuni che hanno già aderito, pochi quelli che per adesso hanno applicato questo protocollo, però penso che sia doveroso da parte degli enti pubblici promuovere queste politiche con azioni concrete, che sono poi le cose che cambiano la vita delle persone e fanno in modo che questi episodi non avvengano più. Io devo dire che la risposta che abbiamo registrato qui in queste ore a Ricadi è stata veramente fantastica perché Ricadi non è assolutamente un comune dove la popolazione è omofoba e ribadisco anch'io che questo è sicuramente un episodio isolato. Cerchiamo di portare a frutto quello che è un episodio negativo per rilanciare invece in positivo politiche antidiscriminatorie. Quindi magari noi come associazioni che siamo presenti oggi qui e che abbiamo intervistato molti esercenti ma anche le persone comuni che si sono fatte intervistare per strada avremo piacere voglio dire di mandare all'amministrazione questa documentazione. Noi non facciamo parte della rete Readi ma la promuoviamo proprio perché sappiamo che è gente seria, gente che mette le mani in pasta e posso aggiungere che in Calabria hanno aderito alla rete il comune di San Giovanni in Fiore, l'ultimo in ordine di tempo, storicamente il comune di Rende, il comune di Pizzo Calabro se non ricordo male, il comune di Lamezza Terme, di Pianopoli e quindi magari sarà piacevole sapere che anche questo comune aderirà. Se vuole aggiungere qualche altra cosa? Se volete aggiungere qualche altra cosa? Ottima iniziativa, non è riconoscenza, credo che tutta l'amministrazione sia favorevole a questo, se ci mandate tutta la documentazione, insomma quello che serve, noi lo faremo insomma il prima possibile, rendendolo poi operativo, ecco questa è la cosa importante. Prego, le passo il microfono. Volevo solo aggiungere per ricollegarmi ai fatti concreti di cui parlavo in precedenza che in questa amministrazione, su impulso dell'assessorato alle politiche sociali, proprio quest'inverno ha realizzato un'iniziativa contro ogni forma di discriminazione, nelle scuole, nella scuola che è il luogo da cui bisogna cominciare per combattere questa paura nei confronti della diversità. Con un nome molto bello, io e te negli stessi panni. Grazie. A questo punto io faccio fare le conclusioni ad Alessia Bausone, ecco. Grazie, ti ringrazio Riccardo. Allora io colgo quello che ha detto l'assessore, dicendo che stiamo discutendo insieme a Giuseppe Giudice Andrea, al consigliere regionale dei democratici progressisti, questa legge regionale contro l'omofobia che mette a disposizione 30.000 euro, che è una piccola somma, sono pochi fondi, però per la cultura, una cultura contro l'omofobia, nelle scuole, nelle strutture sanitarie, ovunque, per fare iniziative promozionali di prevenzione contro l'omofobia, per cui è importante che le amministrazioni, tutti i cittadini, aiutino questo percorso di discussione della legge e noi lo faremo con questa iniziativa di settembre e con molte altre. Grazie. Grazie.